Para! Ciao, io sono Paradoxa, benvenuto e bentrovato! Oggi parlerò della dislessia perché è un tema che mi sta molto a cuore dato che ha caratterizzato praticamente tutto il mio percorso di istruzione e tuttora è una mia firma caratteristica Infatti la dislessia, vorrei giusto precisare questa cosa prima di iniziare non è un problema legato a fare di errori ma è un problema legato a leggere e a breve scopriremo cosa significa veramente questa cosa e questa parola Prima di augurarvi una buona visione, tre brevi premesse Questo video contiene molti errori Seconda premessa, potete trovare le fonti nella sezione di iscrizione Terza premessa, nel commento posto in alto ci sarà un indice che vi indirizzerà direttamente dalla parte del video che riterrete più interessante Detto ciò, vi auguro una buona visione! Tre miti sulla dislessia La dislessia è un problema legato soprattutto al linguaggio orale Tinto favorito dal fenomeno che induce ad avere specie volentieri più difficoltà nel recuperare le parole al momento giusto noto come sulla punta della lingua La dislessia è caratterizzata da errori particolari come l'inversione di lettere nella scrittura o nel parlato La dislessia non è caratterizzata da questa tipologia di errori ma è un fenomeno molto più complesso che a breve andremo ad analizzare Le persone dislessiche sono mediamente più intelligenti del resto della popolazione Questa falsa concezione che le persone dislessiche sono più intelligenti rispetto alla media è devuta al fatto che i personaggi di spicco hanno, nonostante la loro dislessia, avuto successo nei loro ambiti di competenza Piccola top 5 per ricordare e commemorare queste persone Quinto posto è poco nota nelle nostre cronache ma lei è stata insegnante nonché esploratrice e la prima donna insieme alla sua collega ad attraversare l'oceano artico Al quarto posto John Lennon artista, cantante e fondatore dei Beatles nonché un attivista politico dedito alla pace Al terzo posto Derenconuti, questa donna lagata, dirigente ma soprattutto tenace è riuscita all'epoca a diventare la prima filurga nonché la prima presidente dell'associazione Derenconuti dell'America Al secondo posto Albert Einstein, scienziato matematico e fisico nel 1905 nell'annale mirabilante della fisica E' stato il rivoluzionario che diede nuovo impulso alla fisica moderna In questa personale top 5 delle persone dislessiche e più famose al mondo metto Agatha Christen Scrittrice e autrice del famoso romanzo assassino all'Oriente Press Personaggio indiscusso della letteratura inglese del secolo scorso che è stata tra le più tradotte nonché tra le più ricche scrittrici Una, dieci e mille dislessie Infatti essa si può manifestare secondo varie sfumature e soprattutto con livelli di intensità che cambiano da individuo in individuo Però raggruppiamo le tutte in un'unica dislessia per poi suddividerla secondo i modi in cui essa si può presentare Tra cui il core deficit, il circuito, a cascata, i sottotipi e il multifattorialità Si parla di core deficit quando la dislessia e i problemi ad essa correlate si sviluppa a causa di un unico problema Si parla di circuito non a caso perché esso infatti prende in considerazione un modello che prevede un particolare legame a livello psichico e neurologico Si parla di effetto a cascata quando una lieve forma di dislessia non viene prontamente riconosciuta E quindi con l'avanzare del processo scolastico questa si va ad aggravare a causa degli argomenti sempre più complessi che lo scolare dovrà affrontare Quando parliamo dei sottotipi dobbiamo a loro volta dividerli in tre categorie E queste categorie prendono il nome dei ricercatori che hanno proposto questi modelli Fitch nel 1985 propone la dislessia che si sviluppi in vari stati tra cui logografico, alfabetico, ortografico e lessicale Bonner nel 1975 invece va a proporre un modello basandosi sulla disfonia e la disneyetica Becker poi propone una suddivisione della dislessia in varie basi tra cui la B, la L e la M La B sta per percettiva e caratterizza la dislessia da una lettura lenta e con errori dispersivi Mentre L sta per linguistica e propone una dislessia caratterizzata da errori di lettura causati da una velocità molto elevata E soprattutto di errori di pronuncia Mentre quella basi mista è un po' una fusione delle due prime basi Questi modelli più complesso è la multifattorialità Infatti esso prevede l'interfacciarsi e l'intrecciarsi della dislessia con altre DSA A causa di fenomeni epigenetici, genetici e soprattutto ambientali Abbiamo visto come la dislessia si può manifestare E adesso andiamo ad analizzare la teoria ad essa associata Più precisamente fonologica, magnocellulare, procedimento uditivo rapido, la cerebellare, visual attentiva e deficit dell'attenzione interemisferale Per non confonderci analizziamo una alla volta queste teorie Per prima analizziamo la fonologica Questa teoria solitamente si manifesta nella modalità del core deficit E la sua causa ha origine a livello neuronale Infatti, nello stadio embrionale, i neuroni emigrono dalla loro sede originale corticale ectodie Per una nuova sede Creando così un problema di buona interpretazione tra i grafemi e i fonemi La teoria magnocellulare prende in considerazione la struttura biologica del nostro sistema visivo Tanto è vero che mette in correlazione la struttura dedita alla recezione dei segnali da alto contrasto e bassa frequenza spaziale Ovvero il paracenocellulare che deve identificare il cosa Con la struttura magnocellulare che ha il compito di gestire il dove Però questi impulsi vengono poi mandati attraverso le vie ventrali e dorsali Ma una mancata corretta gestione di questi impulsi Comporterà a una mancata elaborazione dei grafemi e dei fonemi Ora prendiamo in considerazione la teoria legata al sistema uditivo Infatti il RAP, Rapid Audiency Processing Ovvero processamento rapido uditivo Mette in correlazione alcune coppie di grafemi e fonemi Come P, B, T, D, G, K Che sono durante un discorso molto veloci da pronunciare E quindi maggiormente difficili da percepire Questo a lungo andare porta a una mancata corretta interpretazione Non solo dei grafemi ma anche della loro pronuncia Portando così a altri problemi legati alla DSA Una delle teorie più recenti e che ha subito più modifiche È quella cerebellare Infatti essa all'inizio prendeva in considerazione Una mancata acquisizione a livello labiale del movimento E a livello grafico della grafia Come causa della dislessia e di altre forme di DSA Ma in seguito, con recenti studi Questa si è evoluta e va a prendere in considerazione Una mancata automatizzazione da parte del cervelletto Nei processi legati alla lettura e alla scrittura La teoria visual attentiva Prende a per pari spunto ed elementi dalle altre teorie Soprattutto in quella della magnocellulare Infatti, grazie alla partecipazione di molti volontari Durante la ricerca statistica Si è dimostrato come la maggior parte dei soggetti dislessici Abbiano riscontrato un problema durante la lettura Causato dai micromovimenti dell'occhio Infatti, nei soggetti dislessici È stato rivelato che il sistema paramagnocellulare È molto più sviluppato rispetto alla popolazione media Questo porta ad avere un problema nel mascherare la visione laterale E quindi, durante il procedimento di lettura La sovrapposizione dei grafemi è più incidente rispetto agli altri L'ultima teoria che vi vogliamo proporre è la più vecchiotta E consiste nel deficit della tensione interemisferale Essa è stata proposta nel 1992 da Becker E mette in corrispondenza l'emisfero destro Dedito all'interpretazione dei segnali visivi Con l'emisfero sinistro Che ha sede la capacità linguistica Questo però ha un problema di interazione Causato dalle fibrole del corpo colloso Che collega i due emisferi Come abbiamo visto in seguito Questa teoria è abbastanza arcaica O a meno anacronistica Per il fatto che si è dimostrato Come il cervello è molto più complesso E interconnesso di come lo si pensava gli anni 90 Il nucleo familiare ha l'importante ruolo Di seguire con maggiore attenzione Il percorso istruttivo del figlio Informandosi in maniera adeguata E seguendo al meglio L'iter diagnostico della DSA E della sua evoluzione Senza caricare il giovane Con aspettative fondate sui falsi miti Che lo vedrebbero in grado Di raggiungere obiettivi In maniera e con percorsi alternativi Dettati da un'intelligenza spropositata Infatti tutt'altro Sarà molto importante insegnare al piccolo Il fatto del perseverare nei propri studi E delle difficoltà inevitabili Che dovrà affrontare Per compensare i risultati Che i suoi compagni raggiungeranno In maniera più facile Supportare emotivamente Ma specialmente temporalmente Nel percorso alternativo Che la scuola riuscirà a fornirgli Sarà un importante obiettivo Da parte dei genitori E soprattutto Sarà molto ma molto importante Non far pesare il trattamento speciale Da lui ricevuto Rendendolo così diversa Agli occhi dei compagni Creando così il pericolo Di creare una crescente sensazione Di ineguatezza nel piccolo La comunicazione famiglia-scuola Sarà così alla base Per una serena formazione del piccolo Io sono così Non mi importa di quello che si dice di me Lago i denti e fiori prese Mangio zufa d'ailandese Casca o la maionese Gioco con la chiave inglese Sparo forse molte stesse Senza essere scortese Quanto muda in francese Pianto usa la melese Per far fronte alle spese Oggigiorno acquisire l'abilitazione Per l'insegnamento È diventato un percorso Molto più complesso Ma molto più completo Infatti questo prevede anche Il saper riconoscere Eventuali insorgenze di DSA Da parte del proprio alunno Tecnologie e dispositivi multimediali Sono previste Grazie a degredi ministeriali Per creare un percorso alternativo Al processo di apprendimento Da parte di quest'alunno E soprattutto a tutelare l'alunno Da eventuali rischi di rifiuto A prioristico della DSA Da parte dell'insegnante Infatti previa una dovuta certificazione I genitori potranno far affiancare Il proprio bambino Da un professionista Che lo guiderà a lui e all'insegnante A ottenere il maggior numero possibile Di risultati Conseguiti e previsti Da parte dell'istituto Soprattutto il professionista Sarà in questo caso Un mediatore che permetterà Sia all'insegnante All'alunno E ai compagni A perseguire un percorso Che non deresponsabilizzi Nessuno dei propri doveri I poteri forti Vi nascondono che la terra È un trapetto Aspetta Dici Che questa Già l'abbiamo girata Ok aspetta Allora Ok DSA Ma che Dammi il copione Ma che leggo Società è un pseudo Sinonimo di professione Perciò Quali sono I sbocchi professionali Per un DSA Sto interessi a crederci Ma i poteri forti Hanno trovato Che se o con Una buona riuscita Di percorso di istruzione Anche in eventuale assenza Le statistiche Sebbene acerbe Hanno evidenziato Come la capacità Spiccata Di trovare Schemi repetitivi E riabolare Velocemente Stimoli Bisospaziali Rendono Chi soffre Di DSA Propensi A occupare Spazi In settori Maneggeriali Scientifici E artistici Sempre grazie Alla tenacia Sviluppata E alla costante Espansione Di pregiudizi Discriminanti Fortificando Immensamente Il carattere obiettivo Ma che cavolo ho letto Allora Comunque Oggigiorno Può comunque Incia Eh? Oggigiorno Può comunicare La propria DSA Non è più Un fattore Totalmente Discriminante Ma che è sta roba Ma Ma Per Arrabiare Consapevolezza Clinica Secondo i manuali diagnostici ICD Secondo volume La dislessia O disturbo specifico Di lettura Si definisce come Una difficoltà Nell'acquisizione Della capacità Di leggere In modo corretto E fluido Nonostante Una dotazione Intellettiva Nella norma E l'assenza Di condizioni Neurologico Psicopatologiche In grado da sole Di giustificare La difficoltà Nella lettura Ma Andiamo a analizzare Da vicino Che cos'è Il processo Di lettura Infatti Vi voglio proporre Un veloce schema Che va ad analizzare Cosa noi facciamo Quando leggiamo Prima di tutto Ci troviamo davanti A una parola scritta Che in maniera Molto veloce E repentina Sarà analizzata In maniera Ortografica Una volta fatto questo Ci troviamo In un bivio Che è quello Del lessico Ortografico Ovvero Leggere E ricevere Il segnale visivo E contemporaneamente Faremo un doppio processo Che è quello Del lessico Fonologico Di output O chiamato Anche Sistema Semantico Ovvero Contemporaneamente Noi leggeremo E deciphereremo Quelli che vengono Considerati La conversione Grafema Fonema Una volta fatto ciò Ci verrà In naturale Il buffer Fenomenico Che è quello Del leggere La parola Le varie DSA In questione Vanno a considerare Che eventualmente Uno di questi blocchi Ha un problema E per capire Quale di questi processi Ha un intoppo Ci dovremo affidare A delle figure professionali La prima Neuropsichiatra Che avrà il compito Di escludere Deficiti sensoriali E alterazioni neurologiche Una volta fatto ciò Ci dovremo affidare Allo psicologo Che avrà il compito Di presentarci Dei test Di scrittore Di lettura E soprattutto Valutare Eventuali disabilità Intellettive Prima di procedere Oltre Vi voglio mostrare Velocemente Dei test E la loro tipologia Nella fattispecie Quella di Boni Stalli Che va a prendere In considerazioni La percezione E l'astrazione Chiedendo magari Di disegnare Una cosa grande Una cosa piccola Prove di orientamento Spaziale In cui ci sarà Richiesta di Ricopiare le figure Oltre a prove All'attenzione E la fatticabilità E quindi ci saranno Chieste di ricopiare Ad occhi chiusi Queste figure Viste da poco E altri tipi di test Che poi Andremo in futuro A analizzare Una volta eseguiti I test Ci dovremo rapportare Con il logopetista Che avrà L'importante funzione Di valutarci E aiutarci Nel nostro training Negli aspetti Lessico-fonologici Morfosintattici E semantici In poche parole Avrà l'importante ruolo Di rimettere Al loro posto I vari blocchi E aiutarci Nel nostro Percorso Scolastico Per quanto riguarda La DSA Negli ultimi anni A livello legislativo Sono stati compiuti Dei passi Molto importanti Per tutelare E salvaguardare L'apprendimento Durante il percorso didattico Degli alunni Anche se Invece A livello lavorativo Essendo un mondo Molto vario E composto Da vari settori È molto difficile Trovare un regolamento Generale Che vada A proteggere I diritti E rendere Un ambiente lavorativo Più sereno Per chi soffre Di disturbo Specifico Dell'apprendimento Andremo a vedere Nello specifico Norme Decreti Leggi E regolamenti Nella fattispecie Nel settore scolastico In maniera tale Da non disperderci Nel mare delle normative Che in Italia specialmente Rendono tutto Un pochino Più complicato Per amor di correttezza Vi devo aggiornare Che le leggi Di cui andrò a parlare Sono aggiornate Fino al 2016 In questi anni Se ci sono stati Cambiamenti E normative Non mi è dato sapere Ma senza Alteriore indugio Andiamo a vedere Queste leggi La normativa Numero 170 Dell'8 ottobre 2010 Quello Due obiettivi principali Di tale normativa Sono quelli di Compensare Tramite L'utilizzo E la dotazione Di strumenti Tecnologici In maniera tale Da poter Aiutare La decodifica E codifica Durante il processo Dell'apprendimento Dell'allievo E soprattutto Comprensive Ovvero Permettere Allo studente Di essere tutelato In maniera tale Che durante il suo Percorso di istruzione Vengano considerati I suoi problemi E quindi Non sovraccaricati Di compiti Esercizi Che potrebbero Stressare E soprattutto Aggravare La DSA In particolare Tale normativa Prevede di Formulare Il contratto PDP Ovvero Il piano didattico Personalizzato Altro Non è che Un contratto Stilato Tra genitori Allunno E scuola In maniera tale Che sia trovato Un percorso alternativo Durante la sua istruzione Che ha come obiettivo Quello di raggiungere Gli stessi traguardi E successi Dei compagni Ma in maniera alternativa Non tutti i genitori Sanno che L'articolo 6 Di questa normativa Prevede La possibilità Di accedere A delle agevolazioni Per quanto riguarda I lavori E soprattutto Gli orari Del lavoro In questa maniera Il genitore Potrà fornire Un maggior controllo E aiuto Al proprio bambino Ma questo Solo per quanto riguarda La scolarizzazione Di primo grado Tale normativa Ha avuto poi Un'ulteriore specifica Per eventuali Forbetti Che è quella Numero 5669 Che andrà A prevedere Un esame finale Annuale In cui Chi ha stipulato Il contratto PDP Dovrà Dimostrare Il raggiungimento Dei traguardi E quindi Di stare Al pari passo Degli allievi E dei compagni Di classe Poco usufruite La legge 5 febbraio Del 1992 Permette Nei casi Di livello Di DSA Più elevati Di poter Usufruire Di una figura Di sostegno Che permette Al bambino Di non rimanere Dietro Dato che è supportato Per rimanere A pari passo Durante la lezione Spiegata E nella comprensione Dei testi Grazie Per aver seguito Fino a qui Spero Che il video Vi sia piaciuto Che l'avete trovato Interessante Condividetelo Lasciate un like Un dislike Ma soprattutto Commentate E fatemi sapere La vostra Ma ci terrei Soprattutto Ma tanto 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 Che lo condividiate Con chi Secondo voi Per timidezza O paura O pressione sociale In teoria Ancora fa fatica Ad accettare La sua Anche se lieve DSA E vorrei poi Condividere con voi La linea guida Generale Da ricordarsi sempre Per chi è affitto Da DSA E non Infatti La competenza E la conoscenza Non è altro Che l'abilità Appresa Di esprimere In modo personale Il proprio essere E proporlo Agli altri Interagire Positivamente Con l'ambiente Naturale E sociale Risolvere I problemi Che incontra Riflettere Su se stesso E gestire Il proprio Percorso Di crescita Anche chiedendo Aiuto Quando occorre Comprendere Il loro valore E la complessità Dei sistemi Simbolici E culturali Mutare Il senso Maturare Il senso Del bello E conferire Senso alla vita Con queste parole Vi saluto Ciao